Con l'inizio della fase 2 e la ripresa di tutte le attività riprendono anche i lavori in corso della BCC di Aquara. Numerosi erano i cantieri aperti che il Covid-19 ha costretto ad una sosta forzata. Da qualche giorno, dopo circa due mesi, abbiamo riaperto i nostri cantieri, dichiara il direttore generale Antonio Marino. Per la filiale di Agropoli i lavori sono quasi giunti al termine e, verosimilmente, entro fine maggio dovrebbero essere ultimati. Nel prossimo mese di giugno contiamo di poter inaugurare la nostra nuova filiale nel centro cilentano. Presto avremo anche la seconda filiale della città di Salerno, situata nel centralissimo Corso Garibaldi. Contiamo di poter avere la filiale operativa dal prossimo mese di luglio. A Rocca d'Aspide il cantiere è sospeso dal 17 marzo. Nel corso del prossimo mese vedremo ultimato il restyling della nostra storica filiale di Rocca d'Aspide. Attiva dal 1991, da giugno la vedremo in chiave più moderna ed efficiente. Entro giugno inizierà a prendere piede anche il progetto legato all'ampliamento della filiale di Santa Cecilia di Eboli. Tale progetto verrà realizzato in due step. Procederemo da subito alla realizzazione di un'area self-attiva ed efficiente H24 e successivamente avvieremo la realizzazione di un bar e una sala riunioni adiacente alla nostra filiale. A Campagna si stanno completando tutti gli adempimenti burocratici legati all'ampliamento contiguo della filiale in Via della Pace, in zona Quadrivio. I lavori interni di ampliamento sono iniziati e presto la filiale raddoppierà i suoi spazi. Considerato che molti lavori sono in dirittura di arrivo, iniziamo a programmare i lavori di ristrutturazione della filiale di Castel San Lorenzo. Un restyling anche per la nostra filiale operativa dal 1988. Non solo aperture di nuove filiali, termina Antonio Marino, ma anche forte attenzione a lavori di adeguamento e rinnovamento per accogliere i nostri clienti in ambienti sempre più confortevoli, sicuri e all'avanguardia.